semmai rivedendo ronardo, forse il titolo su ronardo, cr7 risorge e real cammina, c'è una cosa così, capite, è un titolo su ronardo, lo davano in crisi per già dopo tre settimane che non ha fatto, c'è quasi bibica, c'è quasi bibica, c'è quasi bibica, c'è Cristiano ronardo, c'è Cristiano ronardo, c'è Cristiano ronardo si alza e real cammina, così è bellissima, ma lui ce l'ha detto, non ce l'ho, non ce l'ho, invece poi ci vediamo sempre delle perle, fantastiche, veramente, praticamente siamo più forti, non è quasi, ci vediamo martedì prossimo